Prima cosa ti volevo chiedere, tu hai reso famosi ratti, sminatori, adesso anche su Netflix Ma quei figli di p***a, ma quei figli di p***a Ma scusa ma avete collaborato? Scherzo eh, grandi, mitici, grandi No scherzo, era probabilmente già fuori la serie Beh vabbè, però che sei in un page Mamma mia che nervio, lascia stare Allora scusate, retroscena, lui ha fatto un pezzo Mesi fa l'ho fatto, invece di Netflix, è uscito mesi fa l'ho fatto E so che qualcuno di voi l'ha visto e vi siete andati a prendere la storia del ratto Magawa Sono diventato veramente schillato anche su questo Vai Diventi una persona normale, nonostante economia Il mio cruccio, vai, 3, 2, 1 No, 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 3, 2, 1 Chuck, non mi viene benissimo Sì, perché fai dei Chuck Debo Devo fare più forte Esatto Anche perché Luca ha studiato sceneggiatura Eh, lo so, lo so Infatti ho già guardato ma Quindi il primo anno fanno solo Chuck Cioè cosa scrivere sul Chuck Cosa del genere Va bene, stiamo registrando Sì, buongiorno Ciao, grandi Allora, no La cosa che avevo scritto di dire è questa Benvenuti alla merenda Il secondo podcast più importante della giornata Che è la nostra tagline divertentissima Perché è il primo a Kashmir E quindi oggi Come è giusto che sia Come è giusto che sia Perché cronologicamente è nato prima E quindi È nato prima Non sono sicuro Perché la merenda nasce negli albori del 2014 Ah, allora Allora hai sbagliato a scrivere così Allora ho sbagliato a scrivere così Mi è stato detto una volta Quando l'ho detto a caso In mezzo della gente Ah, se fossi un Hobbit Sarebbe il quarto Perché? Perché gli Hobbit Ho scoperto dopo Che fanno due colazioni E due merende Se è una battuta legata al Signore Gianelli Io non so neanche come Mai visto neanche io Quindi è stato Semplicemente questo gelo Si è creato nel momento In cui me l'ha detto E ha funzionato Va bene Non c'è bisogno di presentare Luca Ravenna Non c'è bisogno di presentazioni Però quello che abbiamo Pacele sono Luca Pacele sono Luca Stand up comedian Co-host di Kashmir Pioniere di LOL Pioniere, sì L'ho scoperto io nel Clondike In Giappone Esatto E figlio di Guido E figlio di Guido Che ieri tra l'altro ha fatto La sua Possibile che tu lo sappia No magari quello di Radio 24 Dici? No la puntata di Kashmir No quello l'abbiamo fatto No no È stato invitato Da un ragazzo Che bazzica Nel mondo politica E così milanese A fare un podcast Dove si parlava di economia E riflesso della crisi Legata alla guerra All'invasione della Russia Verso l'Ucraina È stato molto figo vederlo Ospite lui Nel senso non in forma di Personaggio che magari io dipingo Quindi voglio salutarlo Salutiamo Guido Salutiamo Guido E l'host Stefano L'Aenza O L'Aenza Non mi ricordo Stefano Il padre di Guido Per chi non lo sape Il padre di Guido È il nonno di Luca Ma il padre di Luca Invece che è Guido È diventato un personaggio Degli monologhi di Luca Perché è il primo economista Al mondo che parla in Gramlou Esattamente Ma se verrete stasera Allo spettacolo all'Estragon Svelerò un piccolo segreto Su questa storia Io che racconto Stasera All'Estragon Luca Ravenna Non so quando andrà in onda Questa puntata Perché il nostro Tahir Cioè Flavio Ogni tanto scompare Ma Quando invece sono venuto a vederti A Bologna Al Bravo Caffè Alla fine è salito tuo padre Certo Era il suo complesso Sono messo a piangere È stato incredibile Prima ero molto arrabbiato Perché ero con una ragazza E lei rideva tantissimo Al tuo spettacolo Quindi questa cosa Mi stava facendo salire Una gran rabbia Però ridevo anch'io E quindi diceva Vabbè figata È l'unico selfie Che ho con un personaggio famoso Nel bagno del Bravo Caffè Con Luca Non so che ha la faccia peggiore Perché lui Però aveva un motivo Perché ha fatto qualcosa Io ero semplicemente terrorizzato Non da lui Ma in generale Dal fatto che la mia ragazza In quel momento Ridesse E va bene Quindi ho visto il tuo padre Bello Bello Non sapesse Guardatevi le cose Quando lui dice Per Vipi Fai sport È un grande Bella serata Bravo Caffè È un locale È stupendo Sì Molto bello La stand up alla fine È iniziata un po' lì a Bologna Di quelli Di quei nomi Si che veniva qualcuno in più A vedere Sì Però poi c'è anche Bologna stand up comedy Che adesso sta crescendo Un sacco Sì C'è anche L'underground Del blog Certo Ho fatto mille serate Esattamente Ho fatto anche le mie figure Una volta salendo E io il primo L'ho fatto a Bologna Al parco Mi pare si chiama L'11 settembre Possibile Eravamo una serata Eravamo io Tinti Rapone Frasca Che era un altro ragazzo Faccia stand up E eravamo di fianco A uno stand Di ragazzi Sordomuti Perché c'era Una roba di volontariato Così E si sono creati Diverse gag Con loro Sono molto carini C'erano delle zanzare Allucinanti All'estate C'erano gli europei Nel 2016 Bello Bello Allora Per iniziare Visto che tanto sappiamo Cosa sai Cosa fai Cosa hai fatto Finora Facciamo questa nostra Rubbrichetta Di 5 domande A risposta multiple No A risposta aperta Come ci sei arrivato Così Che facciamo a tutti Che fa Giacomo Che ha studiato economia Ma comunque sa fare Ma comunque sa fare le domande Sono queste La prima chiaramente Come ci sei arrivato A fare stand up A dove sei oggi Sì Raccontiamo la storia del taxi Mi sembra il modo migliore Il taxi Sono arrivato adesso Con questo tassista Super sicuro Molto tranquillo Se dovessi indovinare Per cosa vota Dal look Direi Diciamo Più verso Si sta cercando di capire Se Salvini è il leader giusto Per il suo partito Che non è Sulle settimane migliori Dai modi E restava troppo al cellulare Mentre guidava Però un tassista Naga Gli puoi dire Senti ciccio Io pago Per cortesia Guida come il codice Della strada Vorrebbe E alla fine Nel fare Nell'accostare Ha sfondato Il fondo della sua Toyota Prius Perché non ha visto Un marciapiede Effettivamente molto basso Accusando però Chi si occupa Di marciapiedi A Bologna Dicendo che sono delle merde Perché non ha visto Lui il marciapiede Tra l'altro Questo marciapiede Davanti all'entrata Del nostro podcast Qui dove registriamo Quindi proprio È stato La basuta d'entrata La gag d'entrata Di Luca Seconda domanda E basta Quindi così Sei arrivato No dai Scherzo Facendo tante serate Avendo molta fortuna E mettendo i pezzi Su Youtube Questo Grande Trucco Che Esattamente Altro messaggio Per il nostro Videomaker Che magari Se ci mandassero Nelle puntate Che abbiamo registrato Finora Ma non è qua Non siamo qua Per fare della polemica Ma per parlare Con Luca Ravenna Chi ti ha fatto Perdere tempo In assoluto Bellissima domanda Troppo intima E mi cogli In un momento In cui potrei rispondere Sul serio Ma ovviamente Non lo farò Quindi risponderò Con una minchiata A me stesso Io Ho fatto perdere tempo A me stesso In una vita Un sacco di volte Vedete che si può Perché tutti rispondono A me stesso seriamente Invece Se dico Una minchiata A me stesso Perché è una risposta Che si dà Di circostanza Però è bello Guarda Rimpiango Gli anni In cui Non facevo un cazzo Ma li rimpiango Nel senso che Li vedo Con grandissimo affetto Perché Sono i momenti In cui peschi I pezzi Più divertenti Io su di me Le cose Proprio Io buttavo 16 ore Di 24 Dormendo Fumando E sono stati utilissimi Quindi In realtà Sono mega fiero Di quel tempo Se rispondessi seriamente Sei serio No Avevo smesso di fumare Ho iniziato a fare il comico Me l'hanno fatto notare Sì Una volta Però se non avessi fumato Non avrei avuto voglia Di farlo Quindi Quindi la frase Smetti di fumare Smetti di drogare Che se no Non fai niente nella vita Affanculo Sì Ognuno ha il suo modo Io non giudicherò mai Nessuno che si Si droga Sempre Sta parlando con te Credo Terza domanda Se non ci fossero Limiti geografici Storici O di codice Della strada Con che mezzo Ti sposteresti? Con il motorino Troppo comodo È troppo comodo Mezzo romano Adattato No È troppo figo Cioè Comunque L'Italia Potrino elettrico Però Proviamo Stava mobilitando No 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 Elettrico Lo uso ogni tanto Quello elettrico Quelli sharing Ma la soddisfazione Adesso io non sono Per nulla appassionato Di motori Però La soddisfazione Che ti dà Le spiro sui colli Dici No No Non c'è confronto Quando senti Zuuu Quella roba Però No No Il motorino Mi piace proprio Piano Io guido molto piano Ci tengo ad andare sempre Quindi mi sposterai piano Che rientra sempre Nell'ottica Della persona anziana Che è in te Esattamente No No Ma proprio Sono pro Limiti Sempre più duri Sulla guida Cioè Sempre Sempre Abbiamo avuto qua Un attivista Della bicicletta Che ha risposto Bicicletta Chiaramente Quando abbiamo chiesto Quale Io in bici Sono andato per una vita Sono andato anche Da Riva del Garda A Berlino In bici Solo a 18 anni Ero il tempo in cui fumare Ero il tempo in cui fumare Ovviamente E dopo la maturità Mi piace un sacco Andare in bicicletta Mi piaceva Adesso però Vivendo a Roma In bicicletta È assolutamente impossibile Però sul codice della strada Ci diceva che Se andassero tutti A 30 all'ora Come limite massimo Si andrebbe Alla stessa velocità In città Lo spostamento Perché la media E io che ho una macchina Da poco La mia media È tipo Veramente 32 Pro guida tranquilla Sempre Bene Comunque un messaggio Anche bello Drogatevi Ma non guidate forte E comunque Scherzi Perché cosa rinunceresti A tutta la tua cultura La mia cultura È talmente Relativa alla mia cultura Non rinuncerei mai Alla mia memoria E al nozionismo Poi la cultura mia È tutta superficie La memoria Nonostante trascorsi Sì 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 La memoria terribile No no Non ho cultura È una vetrina Su un negozio vuoto Però È riuscire sempre A cercare di Dire la cosa Che ti fa sembrare Molto più Sapiente Di quello Che è saputo Anzi Di quello che Esatto La cosa anche Dice sempre Woody Allen Nelle interviste Che dice Io citavo Spinoza Nei film La gente pensava Che io sapessi Spinoza Ovviamente Lo conosceva Però il trucco È quello A quello non rinuncerei mai Guarda Boh No A quello non rinuncerei Alla mia cultura Non saprei neanche Come definirla Quella sportiva Quella Quando ho detto Prendi l'Ucraina È una cosa Esattamente Il meme È lì esatto È così Va bene Tra l'altro È un po' più vicino Sto un po' più vicino Molto grazie Ultima domanda Qui non puoi rispondere Con l'espressione Si rivede Chi non muore Mi spiace Mi spiace Mi spiace Mi spiace Mi spiace Brutto Brutto Va bene E come sta andando Lo spettacolo nuovo 5-6-8 5-6-8 Si chiama Sì Bene Nel senso che La fortuna Avviene un sacco di gente Io tendo a non essere Proprio sempre Entusiasta Alla fine Dello spettacolo Perché Finché non lo Non è tipo Scolpito Perfettamente Nella testa Cosa che però Io di base Non definisco mai Tipo Edoardo Ferrari È super Bravissimo Ammira un sacco Perché riesce a Dire E a tatuare Proprio nella testa Delle persone I pezzi Io ho uno stile Più colloquiale Diciamo Però finché non è Super super Perfetto Io non sono mai Al 100% soddisfatto Però Sono molto Adesso Dopo ieri Ho risentito la registrazione Audio Mi sono divertito Quindi tu riesci a risentire La registrazione subito dopo Devo risentirla Subito dopo Non finito lo spettacolo Sarai da ospedale psichiatrico No La mattina dopo Me lo risento Non tutto Sento dei pezzi Soprattutto gli eventi Eh sì Perché l'ho visto fare Dal vivo a lui CK Tre anni fa Ho visto che arrivava lì Appoggiava il registratore E ho detto Ma se lo fai il più forte del mondo Perché io Che sono Uno che sta iniziando Non dovrei farlo E effettivamente cambia una cifra Cioè se ti riascolti Si riesci a memorizzare meglio No quello sicuramente Però Tipo ieri L'hai fatto qua a Bologna Stasera lo rifai Oggi Se riesci ti risenti Perché questa cosa a Napoli Ha fatto così ridere Oppure come mi è successo a Napoli Ho bucato in pieno Una battuta Spezzando l'umore della sala Per tre minuti A Bologna Dov'è che potrei rifare Lo stesso errore Oppure Quale punto non ha funzionato Così bene Quale cosa va sistemata Perché ci sono dieci minuti di troppo Dieci minuti che ancora mancano E ti fai tutto esterno Ma alla fine è proprio un lavoro Quindi Ma e quindi in realtà Per lo spettacolo di un'ora nuovo Tu fai un po' di Prove Anche lunedì Quando fate Quando facciamo le serate Lì proviamo proprio i pezzi nuovissimi Cioè quindi la preparazione Di uno spettacolo È Preparazione iniziale Spettacolo Revisione Spettacolo provato Sì fai Provi il pezzo breve Di 15-20 minuti Poi lo riprovi in un altro posto Fai solo dieci minuti Poi fai magari Adesso posso permettermi Delle serate segrete Dove Diciamo L'invito Solo via mail A chi si iscrive A certe cose Lo provi tutto In posti piccoli Da cento persone Poi lo riprovi In un posto un po' più grande Poi parte il tour E ognuno a suo modo Io vado Sapendo che manca Il 30% ancora Del Non è ancora così compatto E poi la sera dopo Lo stringi ancora Ancora più compatto Poi scrivi un nuovo pezzo Tutto un continuo Tanto finché non lo registri E finché non va online Lo puoi fare Puoi cambiarlo Sistemarlo Tra l'altro questo me lo chiedevo Perché vedo che ovviamente Quando tu riposti le storie Della gente che fa lì Del pubblico Togli l'audio Ed sei a posto Poi se uno vuole andare A vedersi la storia Del tipo Sì Però vedo che in realtà Non è che ci sia Ma non capisci un caccio Comunque non capisci Pensavo fosse quasi peggio Pensavo fosse più pericoloso Perché non so Dave Chappelle E altri come lui Fanno togliere proprio il telefono Per un'altra cosa Ma se ti danno 25 milioni di dollari È ovvio che tu vuoi Che Netflix vuole Che quel pezzo Esca solo sui loro canali Noi siamo A un paese più artigianale B Io non sono Dave Chappelle C 15 secondi Penso faccia più piacere Alla persona Ripostarlo Io magari sto più attento A non ripostare Proprio quella battuta Perché Se sai È come un trailer Che ha il cinema Se vedi tutto il trailer Ormai ti sono fatti Che ti dicono tutto il film È un po' peccato Però anche nei momenti Da più da fan In cui mi sono messo a cercare Ho detto Adesso vado a vedere Però in realtà Non è che trovi Quindi sì Ma non capisci tanto il giancio Quindi E poi comunque dal vivo Anche questa cosa di YouTube Visto che l'hai tirata fuori Ovviamente Con YouTube Si gira Perché gira il video Non devi girare tu Quando è che capisci Che scarto c'è Tra l'effetto che fa il video Tu e l'effetto che fai dal vivo Perché io Sinceramente Nella mia esperienza Con te come comico Quando vedo i video su YouTube Figata Droga 30 anni Grandi pezzi Virali belli Mi sono divertito molto Ti ho visto dal vivo E sono uscito Che ho male Cioè era un altro livello Grazie mille Cioè nel senso Un altro livello Non nel senso Che non siano buoni i video Però Beh ma è È fatto Questa roba È fatta Per vederla dal vivo I video sono appunto Anche quelli dei prodotti Che tu metti In vetrina Diciamo Su una grande via Che è YouTube Ok Adesso Instagram O TikTok E ti fai vedere Quando capisci Che la gente Che ne so Vive lo scarto Che c'è dal vivo È lì Nel senso È lì dal vivo Proprio Che cambia È più divertente Poi dura di più E soprattutto Poi c'è comico Comico Ma l'idea di fare Un'ora Un'ora e venti Tutta di fila Dice questo è il massimo Che ho io oggi A questa età È il massimo Che posso dare Se ridi Sono felicissimo Su YouTube È invece fondamentale Vedere 8-10 minuti Perché ti invole Un sacco di Anche giovani comici Dicono Eh Se metto il pezzo Su YouTube Poi la gente Viene Lo sa già Dice Sì Hai perfettamente ragione Se sei un comico Molto noto Se come me Se agli inizi Nel 2016 Ti conviene metterlo E scriverle quello nuovo Se viene un periodo in cui Più sei generoso Più la generosità Generosità verso il pubblico Pagherà Secondo me Fra un po' E poi adesso già escono Quelli nuovi Giovanissimi Bravissimi Che spero Diventino afoni Presto E non possano Diventare bravi Sì Stanno diventando come il rap Esatto Ed è esattamente La cosa a cui Io guardo Per vedere come si è voluto Per vedere Chi vuoi diventare Fibro Vuoi Omar No Fibra no Perché per quanto sia un grande Evidentemente lui è stato Cioè qualcuno Non so chi Come il rap È diventato ultra mainstream Quando un bianco È diventato il più grande di tutti E se no Non avrebbe abbracciato Tutta la grande fetta di mercato E Fibra è stato Diciamo Se risenti oggi Come si chiama Mister Simpatia È il corrispettivo di Marshall Mathers Ah sì sì E quindi no Perché mi sembra troppo artefatto Marra e Guè Sono Io sono di Milano Quindi sono Orgoglio Cittadino Marra e Guè È una bellissima domanda Forse fra i due Bah Non lo Ti giuro Forse Guè Forse Guè Perché mi sta troppo simpatico Lui come personaggio Adesso mi va avanto Per l'unica cosa Però a me piace tutto Il Club Dogo Così Poi ne parlo anche Nello spettacolo Io con il rap Ho un rapporto Di distanza Perché non mi sento mai Rappresentato dai pezzi Però mi piace E soprattutto Hanno fatto un lavoro 10-12 anni fa In Indie Da sacra scuola Anzi 20 anni fa Da sacra scuola Da argendamico Così Al Club Dogo A Guè da solo Su YouTube Un lavoro Che per noi Cioè devi guardarlo E dire ok Questa è la via Da seguire E adesso la stand up In modo molto Più piccolo Però sta facendo Questo Infatti sì La logia Tra l'altro Guè a proposito Di cose In cui non ti risenti Non ti rappresentano Come linguaggio Guè allora proprio In quello che dice Nelle canzoni In realtà però Abbiamo fatto lo stesso liceo Secondo me Sì ma io Lui ho avuto La combinazione Di intervistarlo Per 40 minuti E ho cominciato A chiedergli di tutto E diventa È chiaramente Una persona Fantastica Cioè proprio Ma a me piace Se tu lo senti No se dico A mia madre Ho intervistato Guè Pechegno E gli dici Ma no perché è personaggio Ha fatto il classico Studiato lettere Filosofia Parini Ha fatto Parini Poi c'è Insomma è una persona Cioè Parini Lo dico perché Era il mio liceo Ma sì È ovvio però Contate la merenda Con Guè e Luca È affascinante Tutti Loro appunto Poi milanesi Così Anche Fibra è super figo Però tu hai perso subito L'accento di Milano Quando sei arrivato a Roma Sì perché Roma è una città Cioè mi ha proprio Rapito l'accento E me l'ha portato via E non ho più No scherzo Io non Quando vedo qualcuno Che va in una città E ho proprio un po' Di inflessione La prendi Però che cambia accento Non mi fida Non mi c'è qualcosa C'è qualcosa che non funziona Non mi c'è qualcosa Della madre Che appena prende il telefono E chiama la mamma Nelle Marche E a slegare No io guarda Come si chiama la tua mamma Federico Ciao Federico Ciao Fede Ma No no scherzo Non lo so Però A me è una cosa Che fa strano Cioè mi chiedo Perché sta succedendo questo E Roma e Milano sono E anche Bologna Mi sa un bel paio Torino Oppure Città che prendono il tuo accento E te lo cambiano E ti fanno diventare Oh Vez Ma lei dove sei Sono stracolma di gente C'è loro Che è il nostro pubblico Molti sono marchigiani Poi c'è un milanese Tra l'altro E Chi è il milanese? Di dove? Milano Eh no lo so E di che squadra sei? Di che squadra? Sì Squadra Squadra Ah grande Allora La mitica squadra di Milano 2 Grande Scherzo no Cioè purtroppo È adesso quel momento dell'anno In cui non c'è più simpatia Fra noi e loro Perché ovviamente Noi gli stiamo regalando lo scudetto E Gli l'abbiamo regalato Quindi non c'è più neanche simpatia Nelle battute Cosa sono incattiviti Con noi E però Sai cosa? Se lo meritano Perché ci credono Ed è già loro Quindi Scherzo Scherzo Salutiamo anche Iba Scusami Sto a pezzi È una merda questa stagione Come è andata Quindi capisci Ma poi è successo due volte A noi sto per risuccedere Stava di perdere la fine Cioè brutto 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 No scusami davvero Non volevo essere così antipatico Queste cose che chiede scusa Per una battuta Che in realtà Cioè no Guarda L'ultima puntata O a meno che non sia veramente Perché io non essendo un tifoso Non lo so Però può essere che davvero Quando non ha fatto la battuta sulla tua squadra Se ci tieni tanto Ci rimani proprio Sì sì Cioè io questa cosa Non l'ho mai veramente capita Penso sempre che sia un po' una pantomima No vabbè Ma poi anche se è una posizione di vantaggio Come io adesso che ho il microfono E faccio il coglione Sai che cosa ci vuole A fare le battute Quindi In realtà io sono per il dialogo sempre Quindi ho detto scusa veramente Poi li odio a morte Ma Questo è E loro con noi Quindi Ma a proposito di questa cosa del dialogo Scusami Mi viene in mente questo Perché stavo guardando un po' di video Ma Tu fai anche improv no? E in quel momento C'è proprio questa simmetria Tu hai il microfono in mano E fai le battute Sugli altri C'è chi Tu cosa studi E poi lo distruggi di presa Sto Sto imparando a cercare di fare meno questa cosa Perché è divertente Ma è facile E quindi Insomma quando verrete allo spettacolo Vedrete come ho cercato di architettarlo Di modo che non sia Perché così è bullismo Rasenta il bullismo Che fa sempre ridere il bullismo Visto da fuori Però mi chiedo sempre Ma se lo facessero a me Però tu lo dici varie volte Però tu sei venuto a una serata di improv comedy Cosa pensavi? Sì 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 Anche perché se no Non è vera improvvisazione È vero che ci sono delle routine È vero che ogni tanto ci metti delle cose minimamente preparate Le attacchi eccetera Però la improvvisazione vera È proprio quando uno ti dice Io cosa faccio Sì però Crescendo mi rendo conto Che è più carino Cercare di Appunto creare un dialogo Più che un monologo mascherato In cui ti verso Perché cioè Sei anche venuto al mio spettacolo Se invece Becco uno Come succede Più uno Che una Obiettivamente Più gli uomini che lo fanno Che fa il fenomeno Che inizia a fare Diventa super aggressivo Allora lì Se ti regge la pompa Gli dai addosso E quello Quello è bello Perché lì a quel punto Diventa una situazione di vantaggio Che va usata Quella del microfono Per fortuna non succede spesso Insomma Però quando capito Però è anche un patto Che sottoscrivi tu Cioè nel momento in cui Tu fai l'improvo Ci può stare Che becchi il fenomeno Sì 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 Che è È inevitabile Ma insomma Ma quelle cose servono poi Quando fai anche gli spettacoli normali Certo Cioè se è un allenamento enorme L'improvisazione L'incatenazione Comunque La tua miglior battuta Il tuo miglior pezzo Scritto Stupendo Quella sera dal vivo Non sarà mai divertente Come una battuta improvvisata Che succede solo lì Succede solo in quel locale Davanti a quelle persone Perché è come le battute Fra amici a tavola La mia storia è bellissima Ma quando un altro Ti prende in giro per una È più Raro Più bello Sì perché il setup Non l'hai fatto tu Non l'hai mai telefonato Cioè lui che è una faccia Che vuole fare una domanda Da un po' L'avevo 80 Ma abbiamo passato Scusatemi se mi giro Da un lato e dall'altro Perché la disposizione Mi porta a farlo Avevamo pensato La prima volta Quando stavamo iniziando In ricerca Un tavolo tondo Come quello che avete voi A cash Il nostro è un quadrato Però stiamo sui È molto più stretto Però non sembra Io e Edo litighiamo Cioè litighiamo Non litighiamo per nulla Come quello di Fedez Esatto Però allora Si può dire Sono selvaggio Però noi discutiamo sempre Su questo ospite Conosce meglio te O conosce meglio l'altro Quindi è stato di più di là È stato di più di qua E il pubblico sotto Gode nel dire Guarda non parlava con Luca Questa persona È molto empatico Come possiamo vedere Quindi si preoccupa di certe cose Sì sì assolutamente Mi spiace Questa è una cosa Che lui è empatico Io sono uno stronzo Non ho mai capito Per quel motivo Però va bene Che è vero E quindi vai Vai a fare la domanda Curioso anche di sapere Cioè veramente Da dove sei partito È un'istruzione cinematografica Hai studiato il classico Sì Cioè raccontaci un po' Il percorso Ho fatto il classico A Milano Poi sono andato a fare Una scuola di cinema privata A città Di quelle che costavano Nel 2006 costavano 5.000 euro Il primo giorno di lezione Proprio il direttore didattico Dice Allora ragazzi Sta scuola sono due anni A 6.000 euro all'anno E uno fa Scusi sarebbero 3.000 5.000 Cos'è sta storia Ma tu Te sei un grande Un grande rompicoglione Te lo posso Veramente è andata così E effettivamente Hanno tolto un anno E a metà del secondo anno È saltato anche il secondo Quelle scuole Super Diciamo per figli Con belleità Genitori Gentili E molti Di quella squadra Non hanno fatto niente Ma noi Prima eravamo 4-5 amici Di 5-3 Siamo entrati Al centro sperimentale Dando Un minimo di Serietà Al nostro percorso E poi ho fatto Sceneggiatura Poi Per una serie Di fortuna E enormi Ho lavorato Con i Pils Nel 2000 E guardiamoci Bagno occupato C'è un Luca Ravattato Giovanissimo Ho scritto con loro E che allora Erano il gruppo comico Autori A Gli autori più Di gran lunga Più figli Ho imparato molto Con loro E poi ho fatto Ho lavorato come autore Faccio quelli che Il calcio Scrivevo principalmente Per Edo Ferrario E in quel momento Ho iniziato a fare stand up Vedendo lui Perché c'era una serata A Roma Una delle poche Che si facevano Facevano lui De Carlo E Saverio Raimondo E il gruppo Poi di Satiriasi Che però Non era aperto A OpenMe Che altro Hanno organizzato Il primo OpenMe Che quella sera Sul palco C'erano io Michela Giro Tinti Rapone Carmine del Grosso Tutti No non era la Cram Però tutti Che hanno poi continuato E beh sì Tutti quelli Che poi sono diventati E quindi Sono una figata Perché c'era una Evidentemente C'era grande desiderio Di farlo E da lì iniziato Fai conto che non c'era Un OpenMe Nelle città Ce n'era uno A Roma E più o meno fine E uno all'anno Quindi ogni occasione Di OpenMe Che fossero poesie In un ristorante Più uno A chi con la chitarra Dici ma posso fare Cinque minuti Di monologo E sembrano minchiate Però quelle Sono le serie Che funzionano Di più E poi Comedy Central Si interessò A questa nuova Ondina Di Due notti E come ha detto Rapone Nella puntata di ieri In Kashmir Hanno filmato Degli OpenMe Che le hanno messi online Con tutto quello Che comporta Cioè battute razziste Fuori controllo Era il 2015 E sono uscite Tre anni dopo E il pubblico Di Youtube Ci diceva Ma siete delle merde Che dite queste cose Ma eravamo All'inizio Nessuno ci ha fermati E parliamo Cioè Sembrano Sembrano passati Tantissimi anni In realtà Tutto questo Si è sviluppato In otto anni E il primo video Tuo Che ho visto Era Avevi Alla barba Cioè Avevi una camicia Quattro 20 kg in più Sicuramente Ed eri Sembrava Una Una fiera Un posto Era La beata Quartina Dell'Alabama Un locale Fuori Diciamo Viargelati A Milano Dove A Milano Come Bologna Come altre città Avevo grandi problemi Con l'eroina Fine 70 Inizio 90 I sopravvissuti Milanesi Sono uniti Tutti e quattro E hanno aperto Questo locale Erano Dei personaggi assurdi E abbiamo fatto lì Le nostre registrazioni E lì davvero Si facevano le ossa Perché la gente parlava Cioè Cioè Così non si faceva Sostanzialmente Ma sono fondamentali Quelle serate Eh però Cosa che adesso Mi sembra Che non ci sia più tanto Perché già il Brew Dog Tre anni fa Non adesso Perché per due anni Si è stati fermi Però Comunque la gente È molto più indulgente Conosce un po' lo schema Il pubblico si è educato Nel tempo Quindi quando uno sale Fa cinque minuti Anche Si ebook Anche in maniera presuntosa Che poi è la cosa peggiore Che salgono presuntuosi E non funzionano Però la gente Però la gente li fa fare Difficilmente si distraggono Invece Quello lì Quando stavamo Io ho organizzato In diversi posti Fra Milano e Roma E Eh Come tutte le cose Io sono appassionato Quindi È figo No? Anche spiegare In un locale Guarda che I camerieri Devono stare attenti Quando passano Che fa casino Per noi Tu sei un nessuno E il tipo del locale Ti dici Ma cazzo è È molto più importante Il cheeseburger di te Però queste cose Sono Ti formano E impari a usare Improvvisare Con quello che sta succedendo E oggi come oggi Per fortuna Il pubblico Che è sempre una nicchia Questa Però in grande espansione È più abituato Più si sta abituando E Sei andato anche in Calabria Sei andato in Calabria In Sicilia Con Sì Hai detto come dire Sei stato Sei stato in posti del mondo È andata questa gag Lundini sulla Calabria Che fa sempre le grazie Perché lui ha rosicato Che è l'unico posto L'ha venduto poco Esatto Continuava a dire Anche in Italia È andato a Gramellini Che Gramellini Non si capisce Non capisce L'ironia di Londini O fa finta Comunque non lo sapevo mai Capisca Ecco Appunto E c'è Londini Che fa Sì sì ho tante date Però importanti sono Quelle da Calabria Perché hai qualcosa In Calabria C'è qualcosa E voi siete stati Lì davvero da pionieri Altro che lol Cioè in mezzo Della G in mezzo Alle strade Con le cose che passano Che cazzo Hai seguito Tutto Alla mezza terme Abbiamo fatto una serata Bellissima Abbiamo fatto un tour Io Tinti e Rappone Facciamo tipo sette date In sette giorni O sette date In nove giorni L'anno scorso Andate alla mezza terme In un locale Noi arriviamo Dopo tutta l'estate Fatta all'aperto Vediamo che non c'è spazio All'aperto Diciamo Finalmente al chiuso Per questa roba È bello farla al chiuso E invece era all'aperto Ma l'aperto era Sulla via principale Della mezza terme Che non sono proprio Gli Champs et Lisee E ci siamo messi Era gratis Quindi la gente veniva Ma i testi nostri Non è che potevano essere sentiti Da una famiglia Cioè sì possono però Magari se senti due secondi Di robe Di Rappone Soprattutto Poi è un problema E per niente Quando abbiamo iniziato Quello locale di Farnut Hanno alzato la musica a palla Mi hanno detto Ma perché? Eh per concorrenza Rosicano perché Poi noi facciamo questo E loro alzano la musica E non si può togliere No Però anche queste cose Mentre le fai Sono tostissime Appena scendi Ti dà una soddisfazione Perché altro dopo Quando vai in posti normali Nel senso che sono predisposti Ad accoglierti E poi diventare più bello E poi divertirti di più Tra l'altro tu in quel periodo Hai postato Un po' di business Vi scriveva Cosa sono in testa I soldi Hai postato Se non mi sbaglio Non mi sbaglio Me lo ricordo Una cosa Della serata Con il cashier Con il cashier 700 in 3 Sì avevo fatto il conto Diviso 3 Più o meno Veniva quello Che coglione Non volevo coprirlo Eh infatti ho detto O l'ha fatto per farcelo vedere Per far capire Quanto sono pionieri O l'ha fatto perché Un grande se ne sbatte Perché alla fine L'ha fatto Ma l'ho visto Poi toglierlo Vabbè Ormai è fuoco Cioè Sti cazzi Qualcuno con un buon occhio Lo vedrà Ma normalmente Mi ricordo Però mi sembra Invece un'informazione interessante Adesso a parte Si si Dà l'idea Per i porriginosi Andare a vedere Quanto guarda Che non me ne frega niente E capire anche Cosa significa Andare dove non c'è pubblico Perché dove non c'è pubblico Non c'è mercato sostanzialmente Ho detto la parola mercato Però è giusto Che il locale Dica Magari 700 euro Per un posto così Sono un bel po' Eh sì E quindi dice Boh proviamo a investire Poi quando vedi 150 persone portate Non sai come Non sai in che modo Che vengono Per non andare a bere Ah pizzo non è male Poi la roba della stand up È figa per i locali Perché è leggera Cioè non hai costi pesanti Ma A un certo livello Chi la fa Deve essere pagato bene Sotto quel livello È giusto Come è successo per me Come è giusto che sia Che il comico Non abbia grandi pretese Perché Due birre Spesso in un locale va bene È inutile chiedere Eh ma è figa Quanti soldi mi dai Per questa cosa Sono cinque minuti In America paghi Per farli cinque minuti Paghi proprio Il tempo sul palco Quindi qua siamo molto L'Italia è bello Perché è artigianale davvero Sì questo è vero Infatti noi abbiamo messo Due biscotti Sì però biscotti da 4 euro Avete messo Non c'è Non so se hai notato Che gli ho detto Ma vai a prendere Voi non li vedete Vai a prendere dei biscotti Fai un po' una varietà Di biscotti E ha fatto una varietà Di forme Tutti ferri Tutti Come si chiamano Non ferri di cavallo Sì però forse sì Sì quelle cosine lì Con la cioccolata Quindi ah bello Questa cosa Adesso sta crescendo Sempre di più E come dicevi tu Ci sono anche i comici Che salgono Fanno un pezzo Super spocchioso L'ho fatto anch'io E pensi Il pubblico non mi ha capito Quando Ti rendi conto Che non è mai vero Questo È un passo in avanti Gigantesco Sì A me è capitato Solo di fare Lì al Blue Dog Una sera sola Poi sono stato Talmente male dopo Eh sì sì Che forse anche È più buono C'è come ti è venuto Il fatto di dire Vado ci provo Ho sempre voluto farlo Sempre ho cercato Posti dove Dove fosse possibile C'erano solo i laboratori Di Zelig Quando guardavo Ok Però mi sembravano Molto diversi Da quello che volevo fare io E ho detto Ok vado Sfidato soprattutto Da De Carlo Che una volta Era un fare a Trastevere Io lui un amico Ha detto Guarda che facciamo L'open mic A febbraio Era estate Dell'anno prima Ha detto Vai ci sono Ok E quindi quella sfida È stata abbastanza utile Poi lo capisci La prima sera Se vuoi rifarlo o no Perché stai talmente male Prima Che Quando hai finito Sai se Subito Appena finisci Sai subito Se lo vuoi rifare o no Ah io lo sapevo subito Che lo volevo rifare però Metti il rifasso Portalo Portalo a fare Dove Siamo ai signori No è bellissimo Bellissimo Però a proposito Di quelli spocchiosi È vero Ci salgono E ti dicono Devi dirmi questo Perché facevo anche La fase un po' di presentazione Così E li vedi da subito Che sono già Partono già presi male Col pubblico I questi non mi capiscono Sono forme di Di autodifesa Di cui però Al pubblico Non frega un cazzo Perché tu sei un comico Ma sei anche uno Che si siede Tra il pubblico Quindi Quando sei seduto Sei molto giudicante È molto Che è giusto Non è che è giusto È inevitabile E comunque più sei In realtà spontaneo Più la gente è indulgente Più sei spontaneo E sicuro Se ci riesci Più Il pubblico lo sente Più ti caghi sotto Tipo io ieri Ho anche fatto una battuta Facendo mezzo passo indietro E il pubblico Ha riso molto di meno Perché ho sbagliato Nel dirlo E ci sto pensando Da ieri sera Ma stasera andrà meglio Perché dovremmo No ma è andata benissimo La serata Però la testa dice Sono 11 finali Pensi solo Esclusivamente Le cose che non sono andate bene Beh anche perché Quelle che sono andate bene Le rifai Appunto E invece proprio Domanda business Proprio nel processo Di crescita E comunque Di diventare un artista Come è andato Quali sono state un po' Le tappe anche per Sostenerti economicamente Inciso Il podcast È volto anche un po' A promuovere Una forma di impresa creativa Culturale Dire ok Dopo il down Se è possibile fare qualcosa Sì Il podcast Vabbè è nato Con Edo Perché non potevamo esibirci Quindi proprio Ecco le entrate Da quel punto di vista Saltavano E Non sapevamo che fare Abbiamo detto Facciamo questa cosa Originalissima Nel 2020 E Poi Però ci conosciamo Noi due abbiamo sempre scritto Tanto Scritto tanto insieme Quindi sapevamo che il brainstorming Era la parte più divertente Abbiamo detto Mettiamo solo questa parte A Andiamo Facciamola ascoltare le persone E poi In un certo punto diventa Una finestra Per Anche lì Cioè comunque Questo lavoro In generale È fatto proprio di Rapporto fra il magazzino E la vetrina In magazzino Metti tutte le tue cose Se riesci a scrivere A performare Ma poi È come le mostri Che ti aiuta A crescere O meno Poi avete fatto Avete fatto La combinazione Con Muschio Abbiamo avuto Quei ragazzi Che hanno fatto Creato Fantasarremo E hanno detto Che quando Fedez Ha detto Bello Fantasarremo Loro sono esplosi Perché appunto Non è successo Non è successo Come questo È importante dirlo Perché Nel senso che Salutiamo ovviamente Eh sì Eh questa è un'altra cosa Visto che ti interessa Ma già le saprai benissimo Ste cose Quando si chiama un ospite Quando si fa una collaborazione Tipo con Muschio Così Si cresce tanto Solo ed esclusivamente Se il mercato Diciamo Di uno dei due Si incastra Con l'altro Cioè Sono molto distanti Non c'è crescita Anche se chiami Mario Draghi Non c'è crescita Se chiami invece Qualcuno Che si avvicina Insieme E io che non ho studiato economia Questa cosa mi sembra Wow Minchia Sono un cazzo di genio Della Silicon Valley Faccio troppo business Esatto Però è Effettivamente vero Scusate Quello pezzo gravoroso Scusate Mi dispiace Perché mi vergogno un po' Però Ecco tipo Il Fantasarremo Chissà quanta gente Che segue Muschio È proprio il tipo di persona Che fa il Fantasarremo Quindi Ci credo Cazzo Che esplavano Una roba così Ah sì sì Sicuramente Poi loro In generale Anche solo Come potenza mediatica Beh sì Ma Stai scrivendo anche per il cinema Perché avete fatto una puntata con Cashmere Non si può dire Sì sì Vabbè Stai scrivendo con Muccino No Come no L'ha detto lui Che ti ha chiamato No Mi chiamò nel 2015 Ah perché per non c'è problema Esatto Per la serie che vide Iscrisse dall'America Gabriele Muccino Per aver visto una serie Che aveva fatto per Repubblica Che Non ha visto moltissima gente Ecco Per lo stesso discorso Repubblica era qua Un giovane autore Che fa una roba Non proprio No no Ma al di là del fatto Che potesse essere carino O meno E'erano proprio due cose Come metterla Sbagliare il posizionamento Diciamo Però è stato fighissimo Farla per me Anche per imparare Un sacco di cose Muccino Ha la vista Ma che mi ha scritto E ho detto Mica Eccomi Hollywood Eccomi qua E ci siamo scritti Sentiti Su Skype Un'ora e mezza A parlare Di idee e di cose Mi ha chiesto di scrivere Un soggetto Per un remake Che gli ho scritto E poi è sparito Io non l'ho mai più sentito Finchè non è venuto a Kashmir E però anche quello È stata una grande lezione di vita Soprattutto Collegando quel periodo Alla lettura del suo libro Perché lui è un personaggio Che al di là del suo cinema Che può piacere o meno Secondo me Alcune cose sono stupende Altre Molto molto meno È molto sincero Nel parlare È molto figo Il libro soprattutto È molto bello Molto comprensibile Mi madre me l'ha regalato Dopo che è venuto da voi Leggela Veramente figo Se ti piace il cinema Posso leggere il libro di Muccino Perché me l'ha detto Luca Ravente Il libro è molto bello La puntata Poi un sacco di gente Ha detto Non si capisce un cazzo Ma quello non si capisce Quando parla lui Quello è un altro disco Cosa potevate fare Però è stata una grande lezione Cioè quando un super big Ti chiama così E poi sparisce È inutile piangersi addosso È proprio così che funziona Il mondo Ma Cioè sceneggiatura Se dovessi scegliere Stand up Cioè se a un certo punto Tu potessi farlo di mestiere Sceneggiatura E basta Col cazzo Ma è una vita infernale No no Proprio Zero È proprio La cosa che mi ha spinto A fare stand up È l'aver fatto l'autore Perché è bellissimo Un lavoro stupendo Ma fare solo quello Per me Cioè per me come carattere Non esiste proprio Anzi ho paura A ripensare agli anni In cui facevo solo l'autore Ricordiamo l'indimenticato Marzullo In discoteca Marzullo urlato Ma non è la mia idea Un'idea di uno degli autori Di Marcello Colombo Un autore di quelli del calcio E l'ho solo fatta Ed è stata una Se non andate a pescare su YouTube C'è Luca Ravenna Che fa Marzullo Però invece che sottovoce Ad altavoce Quindi urla fortissimo Perché c'è una musica a palla Tutto il tempo Siamo qua stasera Tutti Sì è bellissimo Perché avevo portato La musica Gabber Su Rai 2 La musica Gabber Molto fiero E tu hai domande Hai ancora domande di business Possiamo fare l'out-out Possiamo fare l'out-out Prima cosa ti volevo chiedere Tu hai fatto Ti volevo chiedere Hai reso famosi ratti Sminatori Adesso anche su Netflix Ma con i figli di Troia Ma infatti ho visto I figli di puttani No ma scusate Ma avete collaborato Scherzo eh Grandi musici No scherzo Era probabilmente già fuori La serie Beh vabbè Però che sei in un page Mamma mia che nervio Lascia stare Allora scusate Retroscena Lui ha fatto un pezzo Che è uscito Mesi fa l'ho fatto Un musica di Netflix È uscito Mesi fa l'ho fatto E so che qualcuno di voi L'ha visto E vi siete andati a prendere La storia del ratto Magawa Che tra l'altro È una storia Abbastanza nota Nel mondo degli animali Che fanno cose strane Sminatori E questo ratto Sminatore Che per anni È stato decorato Uno dei 4-5 animali Nel mondo Che hanno ricevuto La medaglia al valore Dall'esercito inglese Tipo Una cosa Tipo Mega prestigiosa Sminava I campi In Cambogia No vatti a vedere il pezzo C'è un pezzo di Luca Ravenna Su questo Se lo trovi su Youtube Che è fichissimo No e quindi dopo Netflix l'ha fatto Ha fatto la serie C'è una serie Che era buttata in un page E quindi è diventato Adesso il ratto Sminatore Esatto Io vi vengo a mettere Le bombe in casa Dopo aver fatto Cashmere con Netflix Tra l'altro Che abbiamo parlato Degli ospiti L'ha potata con Filippo Timi Mi ha fatto sbragare Era un grande Strasse Ci ha cancellati Dopo due secondi C'è un male Da palcoscenico Pazzesco Ma poi quando avete fatto Il pezzo A un certo punto Senti Era un po' Telefonale Sai come è stato Mentre è successo Dal vivo Però non era preparata Era un punto di scaletta Anche quella puntata È bella Però Amici Netflix Non dico così Figli di puttana All'italiana Per ridere Mi raccomando Figli di buona donna L'ultima puntata di Cashmere Ho detto le cose Che abbiamo dovuto togliere Perché sono Contro Vabbè non lo dico Però è un gatto E questo è molto importante La mia ragazza è un gatto Sì 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 Non dire la mia ragazza è un gatto Non distanziare No 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 Nel senso che Lei è Però lui è più bello No No Mi spiace Ciao Grazie mille Stupendo Io sto imparando Ancora di più Il vostro Adesso parlo con la tua ragazza La vostra La vostra È una femmina Allora già Si chiama Neil deGatti C'è meno competizione Si chiama la chiamata lei Neil deGatti Neil deGatti Effettivamente Però è bianca Un po' nera C'è un po' colore Guarda lui Sembra una tigre Il naso Sembra il baffo di Hitler No è carina No è carina C'è meno competizione Perché è una femmina Però è più bello Sì sta facendo body shaming Perché è ingrassata molto Quindi non voglio che succeda questa cosa Però Devi farla dimagrire Devi far dimagrire il gatto Eh non è facile Potremmo parlarne per ore Lo sa Io dopo ti farò vedere Delle foto Allora Facciamo questa cosa Che avevamo fatto Perché Luca È stato così gentile Da venire qua oggi Ma anche da Farsi intervistare insieme Edoardo Durante la pandemia Un anno Due anni fa Abbiamo fatto Col zoom Ne facevate 30 al giorno Quindi Però quella è stata Agli inizi Mi ricordo Che abbiamo fatto Cioè era una delle prime cose Che abbiamo fatto Io edo In collegamento Ah ok Ottimo E avevamo fatto questa cosa Che durava Era su zoom Intanto si interrompeva E loro continuavano a dire No tranquilli Non è un problema No solo per sapere Però erano straziati Anche perché Avevano cominciato a chiamarli tutti Ma non solo loro Tutti chiamavano tutti Facevano col con tutti Però sono stati molto gentili Poi magari quando passa da Bologna Edo facciamo anche Certo E abbiamo fatto questo giochino Out out Lei se ne va perché Non lo vuole sentire Non è il pubblico Che se ne sta andando Perché è un'intervista su RTL E quindi c'è L'ha di andare E abbiamo fatto questo giochino Out out Cioè ti do delle opzioni E tu Scegli quale Secco Vai Semplice Sono divisi in tre Uno da spettatore stand up Uno da cinema Spettatore cinema E uno da Che fa stand up Vai 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 Semplice Louis C.K. o Dave Chappelle Louis C.K. Bill Barr Jim Jeffries Pari Bill Barr Jim Jeffries Direi Jim Jeffries Perché ha fatto uno dei pezzi Più leggendari Della storia Della comicità americana Gli ultimi trent'anni Però Bill Burmy Sono affezionatissimo Con una comicità dura Di Boston Anche lui ha fatto Un pezzo leggendario A Philadelphia Dove Tutto il pubblico Ha insultato Quello dei trenta minuti Qui insulta e basta Sì C'è solo audio Tra l'altro Su Youtube Però è molto Insomma Per gli americani È una cosa molto figlia L'ultimo special Quello che fa oggi È stato a Londra È loro Mamma mia Mamma mia Opera Winfrey O Barbara D'Urso Opera Winfrey Cosa ci ne fregano Barbara D'Urso Pucci Pucci o Brignano C'è come dire Inter o Juventus Pucci tutta la vita No proprio Per la cronaca L'altra volta Ha risposto Dovrei dire Pucci Ma dirò Brignano Ci ha ripensato Ci ha ripensato Io non lo conosco No perché sai che adesso C'è la diatriba Tra loro Si divertono Per quello Eleazzaro Assolutamente Edoardo Ferrari O Guido Ravenna Non si può dire Anche perché poi Uno è il comico Preferito dell'altro Quale dei due sia Non si sa Anzi lascio che siano Le loro due le armo E dico fate voi Fate voi Fellini o Monicelli Monicelli Bertolucci o Sergio Leone Sergio Leone Antonioni o Bergman Bergman Sordi o Troisi Sordi Chaplin o Totò Chaplin Fratelli Cohen O Paul Thomas Anderson Pari Downton Abbey o Madman Madman è una delle mie serie preferite Dopo ti abbraccio Perfitto Non si può Pub o teatro Ne parlavo giusto Pub o teatro Non c'è Non puoi metterli Sullo stesso livello Perché Come dire Guidare su pista E fare Motocross Diciamo Locale Locale Grande o teatro Teatro È fatto Per l'ascolto Quindi è una reazione Molto più Veloce Di tutto Però il locale È cool È figo Stare in un locale Non saprei Non saprei scegliere Però pub Anche È un'altra cosa ancora È molto figo Anche pub Per provare È bellissimo Microfono con o senza filo? Assolutamente Con filo Senza fa schifo È scomodo No Non era la battuta Di De Carmi Però è scomodo Sì è più grosso È scomodo Non mi piace Birro Birro o acqua? Acqua Perché se no? Ma perché Sono un bevitore Di merda Cioè bevo poco Ma sono ubriaco Molto in fretta Quindi E poi perché soprattutto Si? Si rutta Un sacco No sul palco Sul palco Acqua Acqua Assolutamente Sì One line o storytelling? One line Non mi soddisfa Dopo cinque minuti Ma no È storytelling Anche Jimmy Carr Dopo un po' Dici Come bere un super alcolico Molto forte Dopo un po' Dici ok Adesso mi ha stomacato Però è gusto Quello Certo Umorismo etnico O stereotipi di genere? Si può avere entrambi Sono molto felici Mi prenderei due Grazie Fa un bis Battuta migliore In apertura o in chiusura? No Migliore in chiusura È come il dolce Al ristorante Dopo lo spettacolo Rume Groupies O Kebab e CBD? Vuoi sapere cosa faccio adesso Dopo lo spettacolo? Dopo il tour di quest'estate È Verdure bollite Riso e pollo E acqua E adesso quindi togli la maglietta E fai vedere gli addominali Non ci ho No però per forza Perché ho imparato Dopo il mega tour di quest'estate Che Tu puoi bere Dopo la serata È stupendo bere dopo Anzi ti rilassa Una sera Due sere Tre sere Alla quarta Sei morto E Sei morto Nessun scopo C'è quattro giorni A recuperare E secondo me piace Il mio lavoro Il festeggio dopo Quando ho finito Me lo godo Ci saluti il Pruciz Pruciz Ciao Pruciz No lì devi salutare Là che ci guarda lui Ciao Pruciz Mi ha fatto dire anche questa cosa Luca Grazie mille Grazie mille La saluta La saluta Luca La saluta Luca La saluta Luca La saluta Luca Grazie a tutti.